Digiunare con coerenza, non disprezzando gli altri. Alla messa a Casa Santa Marta, Papa Francesco mette in guardia dal digiuno incoerente. Come dice la prima lettura odierna, sciogliere le catene inique è il digiuno che il Signore vuole. Bisogna digiunare col sorriso, dice Francesco, per non far vedere che si sta facendo penitenza. E chiederci come ci comportiamo con gli altri. Penso a tante domestiche che guadagnano il pane con il loro lavoro, umiliate, disprezzate. Il mio digiuno arriva per aiutare gli altri, se non arriva è finto, è incoerente e ti porta sulla strada di una doppia vita. Faccio finta di essere cristiano, giusto, come i farisei, come i satusei. Ma da dentro non lo so. Chiede umilmente la grazia della coerenza. La coerenza. E se io non posso fare una cosa, non la faccio. Ma non farla incoerentemente. Faccio fare soltanto quello che io posso fare, ma con coerenza cristiana. Che il Signore ci dia questa grazia.